... Ordina padrone e sarai obbedito. L'eterna gioventù, tutto l'oro del mondo, il potere. La felicità. L'amore. La forza. Tanta roba da rompere. Cosa potrei desiderare di più? Non sei d'accordo, Esmeralda? L'ultimo desiderio puoi tenerlo in servo. No, quello che voglio è troppo importante. Comanda padrone e io obbedirò. Voglio che tu sia libero, Hassan. Affrancato dalla lampada e dai suoi eventuali possessori. Uomo e quindi libero. Libero per tutto il resto dei tuoi giorni. Grazie. 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 Ragazzi, andiamoci. Lasciamoli su.